Sicuramente siamo in netta crescita, frutto del lavoro che stiamo svolgendo da inizio Un anno grazie al nostro coach e nonostante i momenti di difficoltà non ci siamo mai disuniti Abbiamo sempre pensato ad allenarci e restare sempre insieme, questa secondo me è la forza di questa squadra Siamo contenti perché abbiamo vinto e avremmo firmato per vincere D1 e abbiamo ribaltato la differenza canestra Siamo stati più bravi in attacco che in difesa per certi versi nell'arco dei 40 minuti Perché il nostro problema è stato nel terzo quarto per la difesa ve l'ho già detto E per l'attacco abbiamo smesso di eseguire secondo me perché eravamo amanti di 15 E quindi siamo diventati un po' troppo belli per noi stessi E quindi c'è stato quel break a loro favore Però è vero che abbiamo fatto tanti punti facendo segnare tanti giocatori Vabbè con Pierre che ha avuto una giornata strepitosa Tirando Maluccio da tre, tirando Maluccio i tiri liberi Quindi vuol dire insomma che qualcosa di buono lo combiniamo Ma è veramente un complimento ai giocatori questo E poi per come sono fatto io sono molto contento perché abbiamo avuto un tifo calorosissimo Ma mi sembra molto corretto E io lo sport secondo me si vive così E io lo sportivo E io lo sportivo E io lo sportivo